Salve a tutti, sono Damiano Mazzone e spero che stiate tutti quanti bene. Sto facendo oggi questo video perché vorrei condividere con voi un aneddoto molto divertente che mi è capitato questa mattina. Infatti andando su Facebook mi sono imbattuto in un video condiviso dall'amico Giovanni Di Fiore che saluto con un caro abbraccio e in questo video si vede un bambino che canta. E ovviamente non c'è cosa più bella che vedere un bambino cantare perché l'emozione è sicuramente più forte. Il bambino nel video canta Figlie Poverielle, canzone che ormai è diventato un classico della canzone napoletana. Ma con un po' di attenzione, non appena si riproduce il video, ci si rende subito conto che il bambino non canta con la sua voce ma la voce che si sente nel video è di un altro bambino che alcuni anni fa ha inciso Figlie Poverielle e da quel momento ha ottenuto, diciamo, grande consenso dal pubblico di tutto il mondo. È bontà vostra. Quel bambino, che ha inciso Figlie Poverielle, si chiamava Damiano Mazzone e sarei io. E quindi, voglio dire, è stata veramente una grandissima sorpresa perché in questi anni, sono ormai 11 anni, dal 2008 che io canto e suono, insomma, mi era preso questa strada, sicuramente non facile, e in 11 anni, diciamo, di carriera, tanti artisti hanno rifatto alcune mie canzoni. Mamma, occhi da bambina, musica e parole che ho fatto io con l'artista Nico Desideri. Mamma, sia cosa più importante, me mi so corrompite, o sangue rindevene, me la pamite. Questo è solo per fare un esempio. Tante mie canzoni sono state reinterpretate, la cosa per me è stata sempre motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Però non mi era mai capitato, diciamo, che un bambino cantasse con la mia voce una canzone interpretata da me. Ovviamente il video è molto affettuoso e io faccio tantissimi complimenti al piccolo per la gestualità perché ho visto il video, l'ho guardato e gli faccio complimenti al bambino e sicuramente un ringraziamento veramente speciale, di vero cuore, ma alla famiglia che evidentemente ha apprezzato la mia canzone e la mia versione di Figlie Poverielle. Io non so ovviamente dove si sia tenuto l'evento, però insomma in qualche modo mi sono sentito presente, è come se in qualche modo anche io fossi stato presente attraverso insomma la mia voce in questo evento. La sorpresa era riuscita benissimo, purtroppo poi alcune persone dopo aver visto questo video hanno commentato, mettendo il link del mio video da YouTube, dicendo ma questo bambino che canta è Damiano Mazzone. Però ovviamente a parte insomma questo è stata veramente una grande gioia poter vedere un bambino cantare non solo la mia canzone, ma proprio con la mia voce, è come se mi fossi rivisto piccolo qualche anno fa. Questo era ovviamente l'aneddoto insomma divertente, un bacione a questa famiglia, non so ovviamente chi siano, è un bacione anche al piccolo e vi ringrazio sempre per il vostro grande affetto. Ci vediamo presto, un bacio e buona estate da Damiano Mazzone.